Sono Noemi, 17 anni, partecipa anche tu alla manifestazione domenica 13 febbraio. Se non ora, quando? Ti svolgerai mille città d'Italia per la dignità delle donne. Se non ora, quando? Riprendiamoci la dignità qui a Milano, le 14.30 in piazza Castello. Se non ora, quando? Poi girare questo video e invita tutti a partecipare, se non ora, quando? Poi girare questo video e invita tutti a partecipare, se non ora, quando? Poi girare questo video e invita tutti a partecipare, se non ora, quando? Poi girare questo video e invita tutti a partecipare, se non ora, quando? Poi girare questo video e invita tutti a partecipare, se non ora, quando? G Dios voucherà! Poi girare questo video e inviente tutti a partecipare, se non ora, quando? Porto, la performeda uninezione, se non ora, quando? Si pe reactive un'uniceAU... Grazie a tutti.